Allora, facciamo un po' di ripasso sulla programmazione orientata agli oggetti. Lo scorso anno abbiamo terminato, ditemi se è sbaglio, con le classi e i metodi. È vero? Prima abbiamo lavorato con le librerie, e poi abbiamo fatto, scusate se sto girata così, e poi abbiamo lavorato con le classi e i metodi. Allora, faccio un breve riepilogo di cosa vuol dire programmare a oggetti. L'esempio banale dal quale parto sempre, ogni volta, è questo. Supponiamo di voler andare a calcolare l'area di un quadrato. E come fate a calcolare l'area di un quadrato? Noi tutto l'anno abbiamo lavorato in che modo? Chi è che si ricorda? Allora, si partì... Certo, quella è la formula, base per altezza che poi in realtà è lato al quadrato. Però si partiva dall'acquisire intanto il lato del quadrato in input. Poi una volta che il lato del quadrato in input è stato acquisito, si calcola il quadrato di questo lato, e poi lo si va a memorizzare all'interno di una variabile, utilizzando un'istruzione di assinuzione, e poi lo si produce in output. Giusto? Questo era l'algoritmo banale del calcolo dell'area di un quadrato. Cosa vuol dire invece lavorare oggetti? Significa non forsi tanto la questione su come la macchina deve fare le varie operazioni, perché pensare di inserire input, calcolare, poi output, significa ragionare così come la macchina ragiona, o come esegue determinate operazioni. Ma piuttosto invece ci concentriamo sui dati. E guardate che da adesso in poi, in intinta, il nostro lavoro più grande sarà quello di cercare di creare un modello dei dati. La differenza tra chi programma, seguendo l'approccio procedurale o divide in sfera, e chi programma oggetti, è che nel primo caso si cerca di individuare quali sono le operazioni che il computer deve fare, in quale sequenza, in quale ordine, e quindi si definiscono degli algoritmi e basta. Chi programma oggetti invece si concentra prima su creare un modello dei dati che servono all'applicazione, e solo in un secondo momento va a scrivere algoritmi che usano quei dati per fare qualcosa di utile. Quindi nel caso dell'area di un quadrato, invece di fare quello che ho detto prima, mi devo porre la domanda quali sono i dati dell'applicazione? La risposta è che i dati sono i quadrati. I quadrati intesi, come tutti i quadrati esistenti al mondo, che sono infiniti. Ok? I quadrati sono i dati dell'applicazione. Poi, quale modello posso creare per questi dati? Questa è la seconda domanda. E creo un modello che chiamo quadrato. Creo il U-modello che chiamerò quadrato. Ora, cosa abbiamo fatto? Con questa seconda domanda, quindi queste sono due domande che si pone il programmatore, con questa seconda domanda, domanda e ovviamente anche la risposta, abbiamo definito un tipo di dato detto classe. Abbiamo fatto una classificazione. Guardate, questo è un procedimento che esiste anche al di là della programmazione dell'informatica. La classificazione. Quando io prendo un po' di cose, riconosco in questi oggetti delle caratteristiche simili e le classifico. Per esempio, metto insieme un po' di libri gialli e li classifico come libro giallo. Metto insieme un po' di gelati alla fragola e li classifico come gelato alla fragola. Sono tutti diversi tra di loro, mica sono tutti uguali gelati alla fragola. C'è quello in coppetta, c'è quello nel cono, c'è quello più grande, quello più piccolo. Però sono tutti classificabili come gelato alla fragola. Quindi, perché si chiama classe nella programmazione oggetti? Il dato che io vado a definire, proprio perché deriva da un processo di astrazione che è una classificazione. Cerco di riconoscere, deriva dal riconoscimento di proprietà comuni in oggetti che possono essere reali o virtuali. Questa operazione si chiama astrazione. Ora, da qui deriva che io sto definendo la classe quadrata. Definiamo la classe quadrata. Per convenzione chiamerò sempre le classi con dei nomi che hanno iniziale maicola. Ma non è obbligatorio qua. Parlamo così. La classe quadrata. Allora, questo è il problema, eh? Il problema è calcolare l'area del quadrata. Definiamo la classe quadrata. Dobbiamo individuare tre cose. Il nome. Poi. I suoi attributi. O comunque le proprietà che abbiamo appunto individuato negli oggetti comuni. Quindi le proprietà. E poi i comportamenti. Le operazioni. Chiamiamo le operazioni che forse si capiscono meglio. Operazioni che le proprietà descrivono gli oggetti della classe. Per esempio il gelato alla fragola come proprietà ha il colore che normalmente è roda. Poi ha magari come consistenza una consistenza granulosa perché se hai fatto con la fragola dentro la fragola ci sono quei pallini neri che danno una granulosità al gelato. E poi è freddo. Magari ha una temperatura che deve essere maggiore di un certo tipo. E così via. Naturalmente poi potrei anche dire che esiste l'oggetto non gelato alla fragola ma gelato. Cioè l'oggetto scusate la classe è gelato. In questo caso perché? Perché non mi interessano tanto i dettagli. Cioè non voglio rappresentare il gelato alla fragola voglio rappresentare tutti i gelati. Allora in quel caso le proprietà quali saranno? Tipo di gelato cono coppetta gusti o gusto gusti numereri insieme di gusti diversi e così via. Quindi a seconda del problema che io sto su cui sto lavorando le varie astrazioni quindi il modello di dati che mi viene fuori è diverso. Non è sempre uguale. Dipende dal dominio si chiama cioè da quello che sto su cui sto lavorando. Quindi ho delle proprietà che descrivono gli oggetti della classe proprietà fondamentali e le operazioni che sono appunto operazioni che si possono eseguire sugli oggetti della classe. Cosa posso fare su un gelato mangiarlo farlo sciogliere congelarlo vabbè adesso per dire li possiamo prendere come esempio questo è un esempio che si fa spesso nei libri di testo quello dell'automobile l'automobile esistono tante automobili diverse tra di loro se io faccio una strazione quindi vado a prendere in considerazione alcune proprietà ma non tutte alcune che servono alla mia azienda magari posso trovare che tra le proprietà utili per descrivere un'auto c'è la marca il modello l'anno di matricolazione il colore che ne so il prezzo e così via tra le operazioni che si possono fare sulla macchina è non so noleggio vendita riparazione eccetera eccetera quindi a seconda della situazione in cui mi trovo definisco dei dati perché se sono rilevanti per il codice lo potrebbero scrivere quindi quando definisco le classi non definisco un programma ma individuo i dati poi dopo in un secondo momento scriverò un programma che prende questi dati e gli fa fare qualche cosa lavorando secondo quest'ottica allora il nome della classe è l'abbiamo già detto quadrato ma si poteva chiamare in un altro modo le proprietà della classe quali sono solo una perché a me interessa trovare l'area nel quadrato quindi mi interessa solo il lato poi tra le operazioni che mi interessano ce n'è una sola e l'area in realtà potrei anche considerarne un'altra anche se non è richiesto in questo il problema non lo richiede possiamo anche aggiungere il periodo perché è di solito un'operazione che si fa con l'entità che si ha Grazie.